Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Mattia D'Amico che mi chiede di parlare del film del 2003 di Richard Linklater School of Rock. La School of Rock è una commedia divertentissima basata appunto sul rock come idea di base, incontenibile Jack Black che qui fa la parte di un musicista fallito, 30 anni che non riesce a fare il concerto che vorrebbe, lo spettacolo grandioso che vorrebbe, viene mollato dalla sua band dopo un'esibizione a dir poco devastante dove fa una delle scene di stage diving più assurde mai viste in una storia del cinema e poi il nostro quindi vive col suo amico ex bassista che in realtà è un maestro degli elementari ed un giorno cosa succede? Il nostro diui, il nostro protagonista praticamente decide di accettare il lavoro e di far finta di essere il suo coinquilino e di accettare il lavoro in una scuola elementare per recuperare dei soldi, quando è lì si rende conto insomma che potrebbe utilizzare i bambini che sono portatissimi per suonare a esibirsi nello spettacolo in cui lui si voleva esibire con la vecchia band e di lì appunto la trappola per i bambini gli dice che è un progetto scolastico e che dovranno portare insomma dei pezzi rock e di lì tutta la storia. Questa è la storia di School of Rock, una storia molto semplice alla fine, un professore, un uomo si fa scambiare come professore e poi tira fuori una rock band da dei ragazzini per andare a un festival e vincerlo, tutto qua. E quello che colpisce nel film un'altra volta è una messa in scena di Linklater, precisissimo, regista tra l'altro molto interessante che passa da roba ad avanguardia come Waking Life o a Scanner Darkly a film romantici come la trilogia di Prima dell'Alba, bellissima ma addirittura Boyhood, film molto particolare anche quello, girato in 12 anni per avere la crescita del bimbo e qui è in un contesto più leggero come li capita a volte, riesce però a mantenere uno stile regia elevato, un bel montaggio, una fotografia giusta e ha una colonna sonora fantastica che li va dietro, insomma poi tutte le lezioni di Jack Black sulla musica rock sono eccezionali la scena in cui mostra alla lavagna tutte le derive del rock a partire dal centro e tra l'altro se uno fa un fermo immagine o vede la foto è precisissima, è anche dettagliatissima, nonostante manchi roba ma è dettagliatissima ed è un film che diverte proprio perché fa un'altra volta nascere la voclia di ascoltare un po' di bella musica e soprattutto di seguire anche una commedia perché il nostro Jack Black sia fisicamente riesce a far ridere sia anche con i dialoghi, un talento puro che ultimamente è andato un po' a scomparire, è rifinito in qualche film per ragazzi tipo Jumanji e tutto ma insomma qui era veramente una forza della natura quando canta in grand song è splendido e quando tutte le volte imbraccia la chitarra fa morire e quindi che dire di più, poi chiaramente la musicista Cotinassius di di quale uscì anche il film come tutti sanno quindi un film sentito sia da Jack Black che da Linklater, entrambi amanti del rock in tutte le sue forme e quindi che dirvi di più, quando un film fa ridere funziona, certo è un po' bonista però ricordo un'altra volta che il rock ha la sua base a quella di disturbare diciamo così il potenti e quindi c'è qualcosa di interessante ma poi è un insegnamento per i ragazzi per suonare proprio per l'amore della musica non per il successo, insomma alla fin fine, un film molto carino e per me è un calta assoluto diventò calta appena uscito, è uno dei film per ragazzi più interessanti sicuramente del ventunesimo secolo anche appunto per l'utilizzo della musica, per gli attori tutti in partissimo compresa una grandissima giovane chiusa che a fare la preside della scuola tutti molto bravi e quindi che dirvi di più per me è un film assolutamente da non perdere qui sotto c'è il link Amazon per comprarlo o andate alla vostra videoteca più vicina o dove potrete comprare insomma questo bel film se avete voglia di passare una bella serata con della bella musica, una buona commedia, bei sentimenti ma non troppo insomma quindi a voi il film, il link è qua sotto insomma grande link later che comunque colpisce sempre nel segno qualunque genere lui tocchi